30 secondi al via per la seconda batteria, la batteria B del Memorial Vincenzo Gasparetto, primi quattro in finale che andranno ad unirsi ai quattro qualificatisi in precedenza, una prova in cui Brooklyn Lux e Marco Stefani sono i più attesi, numero 6 dello schieramento per l'allieva di Alessandro Gocciadoro, portacolori della storica scuderia rossa e verde dei Biasuzzi. Si va in partenza, Autostart che inizia a muoversi, all'uno Cofetime B, Francesco Facci, due Bessi di Poggio Carlo Udorovic, tre Altaseta del Pino, René Legati, quattro Corsaro Nero Fonte, Antonino Pecoraro, cinque, Chris Di Cavallina, Antonio Di Nardo, sei, Brooklyn Lux, Marco Stefani, sette, Cadella Griff, Andrea Farolfi, otto, Ziguli Dei Greppi, Nicola Del Rosso. Autostart che accelera, entra in dirittura e si prepara allo stacco. Partiti con Brooklyn Lux che non aspetta neanche che la macchina stacchi per andare al comando, nei confronti di Bessi di Poggio che rientra ad Altaseta del Pino e tatticamente si mette non in maniera positiva per la leva di René Legati perché in corda serra sotto Cofetime B, la quale precede Corsaro Nero Fonte, quindi subito Chris Di Cavallina, i primi 200 metri se ne vanno in 14,5 con Brooklyn Lux che guida su Bessi di Poggio e Cofetime B. Va con decisione a largo ora Chris Di Cavallina allo scoperto dando una pariglia ad Altaseta del Pino la quale precede Corsaro Nero Fonte, Ziguli Dei Greppi e Cadillac Griff. C'è stato un 29,5 per il quarto d'approccio con Brooklyn Lux che ha preso la testa a spesa zero e ora amministra il vantaggio portandosi sempre in scia Bessi di Poggio, poi Cofetime B di fuori Chris Di Cavallina e gli altri che seguono a partire da Altaseta del Pino, poi Corsaro Nero Fonte che si mette in mezzo alla pista con decisione anticipando le mosse di Ziguli Dei Greppi. 59,2 il mezzo miglio di Brooklyn Lux all'avanguardia di fuori sempre Chris Di Cavallina alla corda Bessi di Poggio, terza corsia costante per Corsaro Nero Fonte, 1,14,1 il primo chilometro, inizia ad andare ora Brooklyn Lux che aumenta la cadenza, Bessi di Poggio si mantiene in scia ancora in quota Chris Di Cavallina, soffre a largo di tutti Corsaro Nero Fonte, c'è stata una frazione in 14,2 per la retta di là, 1,28,3,1,2, Brooklyn Lux in vantaggio a spalle indietro, Bessi di Poggio nella sua scia, la terza posizione per Cofetime B, sempre a largo Chris Di Cavallina, la retta arrivo per Brooklyn Lux che allunga nei confronti di Bessi di Poggio, Brooklyn Lux che aumenta ancora la cadenza nel finale, vince facile Brooklyn Lux, al secondo Bessi di Poggio, al terzo Chris Di Cavallina, mentre per il quarto posto è stretta con Cofetime B che si difende dal finish interno da parte di Ziculi di Grip, bisogna darla a rivedere, 1,13,4 il raguaglio cronometrico, facile assunto in testa per Brooklyn Lux, Marco Stefani, Alessandro Gocciadoro, i colori dell'azienda agricola Biasuzzi, la rivediamo nelle immagini, frusta in spalla per Marco Stefani, l'allungo decisivo nel finale, della figlia di From Above e Nibet LB che vince, mentre al secondo Bessi di Poggio precede Chris Di Cavallina, al quarto posto Cofetime B, esclude dalla finale una delle più attese, ovvero Ziculi dei Greppi. A te, Micoli. A te, Micoli. A te, Micoli.